la commissione si riunisce la commissione cosa mi dici? altro 110 e l'ode un altro, si nessun davo due in un giorno nessun davo due in un giorno vieni qua vieni qua il candidato vieni qua, remonta qua bravo, ti mettiamo la corona quindi la commissione ha deciso in sede di delibera oggi oh, che cazzo quindi signora vediamo il diploma, la laurea honoris causa in scienze dell'erotismo della sessualità e della pornografia femmole un applauso femmole un applauso fatta in Albania ovviamente fatta in Albania come il trottast che porio non so quanto gnocchi che c'è adesso mi riesci a fare che fai un altro bagno no, no, basta, basta oh, ma, no, per me grazie, grazie oh ma